Il 10 maggio Amadeus ha registrato l'ultima puntata di Affari Tuoi, che andrà in onda al primo. Il 10 maggio Amadeus ha registrato l'ultima puntata di Affari Tuoi, che andrà in onda al primo. La fini di un'era, quella di Amadeus a Viale Mazzini, che da settimane sta facendo parlare di il suo contratto con la RAI scade ad agosto, ma ufficialmente il suo ultimo impegno nella TV di Stato risale a quasi una settimana, riporta il settimanale Chi. Un addio freddo, che conferma i rapporti tesi tra presentatore e azienda, e che sicuramente ha lasciato l'amaro in bocca a entrambi con Amadeus era presente la moglie, Giovanna Civitilo, che a differenza del marito in RAI rimarrà, almeno è impegnata in sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e sarebbe in attesa di conferme da parte della RAI e, forse anche, di un'eventuale proposta da parte.